Ah, finalmente siamo arrivati al premio Troisi, ma potevamo fare pure due biglietti invece di fare tutti questa faccia. Ah, quali biglietti, Terun? Vieni qua, che siamo qua a vedere un spettacolo. Tu lo sai? Io odio la tradizione napoletana, o premio Troisi, a comicità di Napoli, San Giorgio Cremano, ma ti rendi conto? Siamo già alla quarta edizione, bisogna porre fine a questo sconcio, bisogna essere vigili a San Giorgio. Ah, non è sempre piaciuto il fuomicile urbano, prego, scomperare, prego, scomperare, e ti vuoi far scoprire? Ascolta, se ho ben capito, questa è una rassegna di cortometraggi comici. Sì, sì, è comico. Bene, quindi saranno proiettati di cera? No, no, di notte, di notte. Perfetto, ascolta il mio piano, vedi in questa valigetta c'è una lampada voltaico nucleare, la piaceremo sul punto più alto di Napoli. E dov'è? Goppo mi giù io! Mamma, mi fa impressione, ma come è cattiva. Di modo che per sei mesi non ci sarà più notte in tutta la Campania, e mai più potranno mettere questo cortometraggio premio atroidi. Ma sì, dopo ho in fame. Io in fame. Io in fame. E voi, voi, che tenete la pizza a spugliatelle? Un mandolino. Lasciami stare, Tarun. E sai che ti dico? Sai chi piacerà questa lampada? Sarei tu a farlo. Sì, perché ti trasformo in razzaman. Sono un fame, sono troppo un fame. Il premio massimo troisi è in pericolo. Questo è un lavoro per Sassaman. È un casino. Ma c'è mia mamma, mi fai fare lo farò. Non faccio qui. Lui non mi rimanda a casa. Non mi rimanda a giocare. Ma guarda, ma che c'è per la misione a giocare? Stiamo qui, io stiamo 거죠. E' stato qui, io non mi sono guardato. Non voglio, vai, via, vai, via. Non posso andare. Non posso andare. Non posso andare, mia mia figa! E invece, sta da perdere l'onore, sono maviola, su cazzo dove ciò va bene a voi. Dolomiticus, ti distruggerò, poteri, ramuzzarelle e bufale, vieni da me! Cazzo a me, sei venuto a salvare il premio Troisi, il superereo di Napoli. Cazzo a me, stai addosso! Vabbiamo a provare!